All'indomani della presentazione dei dati statistici del 2016 si sono diffusi i primi rumors riguardo il futuro Consiglio d'amministrazione dell'azienda di promozione turistica Gard Trentino Spa. Il nuovo CDA andrà da un minimo di 7 a un massimo di 9 componenti e molto probabilmente il punto d'equilibrio sarà quest'ultima cifra, con la riduzione della componente pubblica che passerà dagli attuali 5 rappresentanti a 3. Di conseguenza a qualcuno toccherà farsi da parte e non è scontato che ciò avvenga tanto facilmente. Oggi si è tenuta una conferenza dei sindaci in cui, seppur non ufficialmente, si è iniziato a confrontarsi sulla futura governance dell'azienda. L'attuale presidente Marco Benedetti si è dichiarato disponibile ad una sua rielezione ed esprime un giudizio positivo sul suo operato. Nello stesso avviso è il sindaco Arcense Betta, che non si sbilancia riguardo la riconferma di Benedetti. Il presidente di Confcommercio Claudio Miorelli si dichiara soddisfatto del lavoro di Benedetti e dei rappresentanti della propria associazione, Cristian Prandi e Silvio Rigatti. Proprio quest'ultimo, noto albergatore di Ivano e vicepresidente dell'UNAT, sembrerebbe essere un'opzione alternativa a Benedetti. Anche se comunque il più accreditato in caso di mancata di elezione di Benedetti resta l'ex vicesindaco di Riva Alberto Bertolini, vicepresidente provinciale dell'ASAT. Quest'ultimo fu a un passo dall'essere eletto già sei anni fa, quando però venne ostacolato da Mosaner per proseguire l'incarico politico.